Ciao mamma, domani è il primo maggio, la festa dei lavoratori, allora non lavora, tu non lavori, tu sei pensionata, a chi la saluti, a quali lavoratori? Tutti i lavoratori, Eric lavora tua nipote, tua nipote lavora, si anche io, che faccio sto a casa? Eh, non sei contenta che lavoro? Sì, sono contenta. Ah, sei contenta? Non oggi, domani è la festa, mamma, oggi non è l'uno, domani è il primo maggio. Ah, domani è il primo maggio. Quindi saluto a tutti i lavoratori. A tutti i lavoratori. E anche i pensionati che hanno lavorato. Ah, anche i pensionati che hanno lavorato, hanno lavorato. Ok, dammi un bacio. Ah, domani è il primo maggio. Domani, domani. Ciao a tutti. E poi c'è il bacio all'agrare. Sì.